L'Unione Europea corre il rischio, potendosi magari sviluppare in futuro, di commettere gli stessi errori, di sostituire magari gli Stati Uniti? Dunque, io penso che l'Unione Europea sia vocata a essere una colonia americana, non penso assolutamente che possa guadagnare una sua autonomia, mi paiono puri discorsi da anime belle e da pappa del cuore, come direbbe Hegel, quello di chi dice che l'Unione Europea deve essere forte per creare una terza via rispetto alla Russia, rispetto agli Stati Uniti, l'Unione Europea è una colonia americana, ce lo rivelano le 115 basi militari che abbiamo in Italia, americane, le 170 che hanno in Germania, siamo a sovranità limitata dal 45 sul piano militare, adesso gli Stati Uniti ci dicono che i cinesi col 5G ci spieranno, loro ci spiavano dal 45, l'interrottamento, quindi siamo all'interno, siamo una colonia, quindi l'Unione Europea, mi spiace dover infrangere il sogno delle anime belle del più Europa e della narrazione dell'integrazione europea, l'Unione Europea è nata non già per proteggerci rispetto alla globalizzazione americano centrica, ma per forzarla anche nel vecchio continente, dopo l'89 non poteva resistere oltre il vecchio modello europeo di capitalismo keynesiano e temperato, bisognava imporre il brutale spietato nesso di forza capitalistico di marca americana, quello del liberismo selvaggio, dei tagli alla spesa pubblica, della concorrenza 24 ore su 24 con i taxisti che devono concorrere con Uber e con i negozianti che devono stare aperti la domenica e così via, questo è il capitalismo americano, l'Unione Europea è servita ad accelerare il processo di americanizzazione del vecchio continente nell'essenziale, quindi l'Europa è una colonia americana. E tu questo processo un po' guidato anche da Steve Bannon in America, che era consigliere di Trump, che vorrebbe aiutare i cosiddetti populismi a emergere in Europa, quindi acquisire una situazione di dominio, come lo spieghi, visto che in realtà gli interessi americani sono di avere una colonia americana? Ti dico la verità, gli americani sono terrorizzati dalla possibilità non che l'Europa si costituisca come forza in sé, come già dicevo, ma che guardino verso l'euroasiatismo, il vero terrore degli americani è che non che l'Italia e Berlino e Parigi si rafforzino fra loro, ma che comincino a guardare verso la Russia di Putin o la Cina per toccare temi di questi giorni, cioè la prospettiva euroasiatista. Quando è che è scoppiato lo scandalo Volkswagen in Germania, ti ricordi? Quando Merkel ha cominciato a guardare a Putin. La grandezza di quello che sta avvenendo ora in Italia con la cosiddetta via della seta, importante, credo un laboratorio unico ancora una volta al governo nazionale, populista, italiano, perché per la prima volta oggi dal 1945 c'è un'apertura verso oriente di uno stato europeo, verso oriente, verso la Cina, con l'ovvia rabbia e la rancura schiumante degli americani di Washington che invece vogliono il monopolio. Cioè loro sono per il libero mercato finché il libero mercato privilegia il loro interesse. Se il libero mercato per accidents andasse a privilegiare altri, automaticamente lo sopprimerebbero pro tempo.